Sì, raccontare le migrazioni è difficile per vari motivi, perché il fenomeno come vediamo ormai da anni è un fenomeno che cambia, è un fenomeno sociale che dipende anche da fattori esterni. Oggi vogliamo discutere di come si tratta il tema migratorio ed è l'Associazione Carta di Roma in particolare che è questo codice deontologico che i giornalisti si sono dati proprio per cercare di trovare delle chiavi di lettura migliori per raccontare il fenomeno. Diciamo, l'Associazione Carta di Roma ci lavora da tanti anni e dà degli strumenti, delle linee guida e anche progressivamente fa degli aggiornamenti appunto. Oggi pensiamo che sia importante guardare al fenomeno migratorio che arriva in Italia, ma guardare anche oltre, quindi ai paesi di origine, alle cause delle migrazioni. Lo è sempre stato, ma oggi più che mai lo scenario internazionale è particolarmente complesso e mutevole e quindi la sfida vera è provare a raccontare i contesti da cui partono, le dinamiche e quindi anche il fenomeno migratorio nella sua complessità e non solo numeri, ma oltre i numeri le storie, le cause appunto si diceva e anche guardare ai contesti di origine con uno sguardo più decoloniale, mi proverei a dire, nel senso che abbiamo bisogno di affrontare di più ma anche meglio come vengono trattati, trattato il fenomeno e anche come vengono raccontati i contesti. Abbiamo bisogno di voci diverse, di diversità nelle redazioni, tra gli esperti che raccontano il tema e abbiamo bisogno anche della voce diretta dei protagonisti, diciamo sia dei migranti stessi, delle persone migranti, ma anche appunto di chi è protagonista in quelle parti del mondo da cui si parte. La questione, hai detto, hai usato l'aggettivo decoloniale, decolonizzare, è interessante perché in Italia sembra che ci sia un po' un'amnesia molto specifica, nel senso che non riusciamo ad abbandonare quel punto di vista e quindi parliamo dell'Africa nel suo complesso, spesso sempre con questo sguardo, però poi quando si va a guardare la responsabilità al passato invece improvvisamente non siamo mai stati coinvolti. Insomma, è quasi un paradosso. Sì, in Italia in particolare penso, ma un po' in tutti i paesi, c'è proprio bisogno di recuperare una memoria, di rileggere gli eventi del passato, in particolare quelli coloniali, insieme a dei protagonisti, dei protagonisti di chi ha vissuto e ha subito, diciamo, gli effetti del colonialismo e del neocolonialismo, perché c'è una storia che va recuperata, ma c'è anche un presente che è fatto di, diciamo, di relazioni impari, ineguali ed è fatto continuamente di sguardi e di politiche che tendono sempre, diciamo, a colonizzare le economie, la cultura e quindi c'è proprio bisogno di rovesciare il punto di vista, di trovare delle nuove prospettive e sicuramente queste nuove prospettive ci aiuteranno non solo a raccontare meglio quello che accade appunto in continenti così importanti e diversi, come l'Africa, l'America Latina, l'Asia, eccetera, ma ci aiuterà a comprendere meglio il fenomeno migratorio, chi arriva, da che contesti, c'è davvero un vuoto enorme. Noi abbiamo intitolato questo rapporto e presenteremo oggi Illuminare le periferie, come gli esteri, diciamo, vengono oscurati dai tigi nazionali. Dietro questo c'è un oscuramento, diciamo, di parti del mondo, ma di pezzi di storia, di pezzi, diciamo, di società civile, di associazioni, di enti, di, come dire, pezzi appunto di interi di società che in tanti paesi stanno trasformando quei paesi, no? E non siamo capaci di leggerli affinché non diamo la parola, affinché non ci togliamo delle lenti, che sono quelli appunto di stereotipi e ci portiamo avanti da tanto tempo. È un'opera, diciamo, un po' lunga, ma sicuramente interessante. Per chiudere, porto ancora da questo punto che stai affrontando, si dà poco spazio alle storie appunto di chi vive questo tipo di situazioni, gli si dà anche poco il microfono, nel senso che in Italia, insomma, i giornalisti e giornaliste che abbiano un background migratorio sono, non so, si arrivino all'1%, comunque sono un numero assolutamente troppo basso. Assolutamente, c'è bisogno di maggior diversità, no? All'interno delle nostre redazioni di chi produce informazione, ma un po' a 360 gradi, no? Cioè non ci si può affermare, la nostra società davvero ormai è multiculturale, abbiamo terze, quarte generazioni che vivono tra noi, e però troppa poca rappresentanza, diciamo, di questi sguardi, di queste prospettive interculturali dentro le redazioni e dentro gli spazi di produzione dell'informazione. Credo anche che, diciamo, ci sia poco attenzione a raccontarli nel momento in cui vengono raccontati i fenomeni. Un dato eclatante del rapporto di Carta di Roma è che, paradossalmente, nel 2022 è venuto fuori un aumento, finalmente, del numero di persone migranti che prendevano la parola all'interno dei servizi. Quando siamo andati a vedere di chi si trattava, abbiamo visto che in gran parte si trattava dei rifugiati ucraini e ucraine. Allora, questo ci deve far balzare agli occhi, diciamo, un dato, no? Cioè che esistono dei doppi standard nell'informazione e che probabilmente, così come abbiamo fatto per gli ucraini, giustamente, e le ucraine, possiamo farlo per tante altre nazionalità.